GF VIP, Nicole Murgia e l'atteggiamento di Marzoli, Antonino Spinalbese la settisce così. Antonino Spinalbese e Nicole Murgia si sono messi a parlare di quanto successo durante l'ultima puntata in diretta su Canale 5. Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello VIP hanno deciso di punire i comportamenti degli inquilini dimezzando loro il budget della spesa, ma non solo. Nicole Murgia ha ritenuto l'atteggiamento della produzione nei confronti di Oriana Marzoli esagerato, spiegando di non averla mai sentita dire certe cose. Antonino l'ha subito interrotta, dicendo, io sì, l'ho sentita. Oriana è stata infatti ampiamente ripresa per le sue affermazioni e il suo modo di interagire con le altre donne della casa. Nonostante continui a sostenere di non aver mai detto certe cose. Foto, per gentile concessione dell'ufficio stampa and demolcine Italy Music, Mose from Bensound. Come leggi anche, GF VIP, lo avete fatto con Antonella e Nikita. Antonino senza peli sulla lingua parla delle strategie attuate nella casa. Come leggi anche, GF VIP, lo avete fatto con Antonella e GF VIP, lo avete fatto con Antonella e GF VIP, lo avete fatto con Antonella e GF VIP. Come leggi anche, GF VIP, lo avete fatto con Antonella e GF VIP, lo avete fatto con Antonella e GF VIP. Grazie a tutti